E' stata restituita oggi ai familiari la salma di Maria Venazio de Sousa, la sessantenne brasiliana ritrovata senza vita lo scorso 26 agosto in Via della Robbia, nell'appartamento in cui riceveva i clienti, nei prossimi giorni i funerali. In carcere per l'omicidio della donna Federico Ferrini, 37enne casentinese, reo confesso. Restano però ancora molti punti da chiarire su quella drammatica notte, dubbi principalmente su muovente dinamica del delitto, maturato al termine di una violenta lite tra i due ex amanti. L'assassino ha infatti dichiarato, prima negli uffici della mobile e poi di fronte al giudice, di essere stato ricattato dalla donna che gli avrebbe chiesto, dice lui, 200.000 euro per non rivelare a tutti le sue frequentazioni con le prostitute. Altro elemento da chiarire è il perché l'uomo nell'appartamento di Via della Robbia sia rimasto così tanto a lungo dopo il delitto. L'omicidio infatti si sarebbe consumato attorno alle 4.30, Ferrini uscito invece dalla casa immortalato dalle telecamere di video sorveglianza con ancora l'arma del delitto in mano, una sbarra di ferro dopo le 5.30. Dunque ancora molti dubbi del GIP che ha comunque convalidato l'arresto invitando gli inquirenti a fare ulteriore luce sulla vicenda, anche sulla possibile contestazione dell'aggravante della premeditazione. Per il giudice sarebbe infatti poco credibile la versione data dal 37enne, ossia che quella spranga, quella quale poi si è accanito sulla donna prima di stringere un laccio attorno al collo, servisse per entrare in casa se lei non avesse aperto la porta. Gli inquirenti adesso attendono i riscontri scientifici di quanto raccontato dall'assassino. Le tracce biologiche trovate e repertate sulla scena del delitto saranno infatti analizzate a Firenze, la speranza è quella di riuscire ad estrarre il DNA del raconfesso dal materiale biologico trovato nel corso delle indagini e dare così una conferma oggettiva a quanto raccontato dall'omicida.